Allora, salve a tutti, buongiorno a tutti da The Name Before Tokyo, come vedete l'acquisto del generale Frenkie da me montato nell'ultimo unboxing mi ha fatto tornare in mente una vecchia rubrica che tenevo tempo fa, ossia quella dello One Piece Battle, cioè degli scontri fra i vari personaggi di One Piece, una rubrica un po' cazzona per dibattere un po' come si faceva una volta nei forum e proprio oggi grazie anche all'acquisto del generale Frenkie mi è venuto in mente un topic che all'epoca aveva fatto abbastanza discutere gli utenti e sto parlando appunto dello scontro eventuale tra Sanji e Franchi quindi tra quelli che sono, secondo il mio parere, appunto i numeri 3 e 4 della ciurma se si dovesse fare una ipotetica classifica in base alla forza dei membri ovviamente io penso che Sanji sia più forte, penso sia abbastanza scontato però penso che sarebbe uno scontro tutt'altro che semplice per il cuoco diciamo che nel momento in cui Franchi è stato presentato nel primo incontro che ha con Rufi a Water Severn sembrano quasi alla pari e si parla di un Rufi pre-Giar ovviamente e anche diciamo da tutto quello che avviene nel treno marino sembra quasi che Franchi e Sanji siano allo stesso identico livello visto che anche il fatto che comunque Sanji sconfigga One Piece e Franchi sconfigga Nero che erano posizionati in ordine crescente di forza faceva quasi pensare che Franchi potesse essere forte quanto se non più rispetto al cuoco poi però arrivati a Ennis Lobby, appunto Sanji se la vede con Yabura Franchi se la vede con Fukuro quindi sicuramente Sanji dimostra di essere più forte del Cyborg anche per via del potenziamento appunto del Diabol Jam che così come Rufi con i Giar e Zoro con la Shura li pone appunto, pone questi tre su un livello differente rispetto agli altri e ripeto in precedenza anche dai piccoli battibecchi che avevano avuto entrambi quindi Sanji e Franchi con Blueno per esempio sembrava che fossero più o meno allo stesso livello visto proprio il modo in cui mettono in difficoltà il cornuto appunto ecco da questo punto in poi quindi dai potenziamenti che hanno tra virgolette i membri del Monster Trio il così chiamato Monster Trio poi ovviamente sembra esserci un divario abbastanza netto divario che si vede anche alle Isole Sabaudi quando appunto la ciurma si divide in tre gruppi ciascuno dei quali ha appunto un membro tra Rufi, Zoro e Sanji quindi la tripartizione non sembra fatta ecco diciamo che Oda per quanto riguarda questi piccoli indizi sui livelli di forza non fa nulla a caso quindi si evince chiaramente che Sanji è più forte di Franchi e io penso che questa cosa sia rimasta invariata anche post time skip però bisogna fare un po' di precisazioni diciamo che nel momento in cui avviene il stato temporale noi scopriamo che Sanji possiede l'ambizione quindi ci viene detto appunto da Rufi che Sanji insieme a Zoro è l'unico membro della ciurma a parte lui ovviamente che possiede l'ambizione e penso appunto dica entrambi i tipi di ambizione quindi sia l'osservazione che l'armatura questo in un eventuale scontro con Franchi lo porrebbe sicuramente su un piano superiore quindi su una posizione diciamo avvantaggiata perché appunto l'ambizione è molto importante in uno scontro uno contro uno in One Piece però l'ambizione non è tutto diciamo che è importante anche una buona dose di forza di resistenza, di velocità in generale e di poteri speciali quindi analizziamo tutte le componenti di un probabile scontro per quanto riguarda la forza fisica sono sicuramente due o tre membri più forti della ciurma insieme appunto proprio a Rufi e Zoro e poi dopo a seguire anche Chopper in versione Monster come forza brutta in sé io penso Sanji sia comunque superiore visto le manifestazioni che ha mostrato ad esempio calciando una montagna come Wadatsumi oppure a Thriller Bark appunto quando respinge il bazooka di Odr a doppia mano insomma Sanji è sicuramente un mostro di forza fisica anche Franky comunque non se la cava male sotto questo punto di vista per quanto riguarda la resistenza qui mi sembra che la velocità scusate non ci sia paragone cioè Sanji è molto superiore a Franky così come anche per quanto riguarda l'agilità e questo combinato con l'ambizione della percezione ovviamente gli dà un grandissimo vantaggio motivo per cui secondo me vincerebbe però ci sarebbero delle difficoltà per Sanji e da cosa sono dovute queste difficoltà? beh in primo luogo dalla resistenza del cyborg non parlo tanto del battle Franky appunto del generale Franky ma proprio del Franky cyborg in sé se è vero che dopo il timeskip infatti Sanji distrugge con un calcio praticamente un pacifista che prima del timeskip appunto aveva difficoltà quasi a calciare perché si faceva male alla gamba quindi da qui si capisce quanto siano migliorati però Franky probabilmente allo stato attuale dopo i due anni del timeskip io penso sia più duro di un pacifista stesso e non dico che non verrebbe danneggiato dai calci di Sanji perché assolutamente verrebbe sicuramente maciullato però ecco magari resiste a più di un calcio del cuoco e quindi questo gli consentirebbe comunque di contrattaccare quali contrattacchi potrebbe avere Franky? beh diciamo che al di là della forza fisica quindi pugni, armi, missili eccetera le cose che mi hanno impressionato di Franky sono due per quanto riguarda gli attacchi uno il fatto che riesca a fare il code event a una mano sola lo vediamo appunto ad resta rosa quindi questo vi permette di sparare il raggio in molto meno tempo rispetto a quanto doveva fare prima e quindi magari anche in un corpo a corpo ravvicinato potrebbe sorprendere magari Sanji con un code event veloce sparato da una sola mano e poi bisogna dire che è vero che Sanji è più veloce ma se dovesse essere preso ad esempio da un colpo come il radical beam che a pancazzard riesce ad abbattere una parete che nemmeno lo stesso Sanji riusciva a sfondare questo secondo me dovrebbe far riflettere su come appunto l'esito di questo scontro non sia totalmente a favore del cuoco o meglio Sanji rimane favorito io penso comunque sia più forte però ecco se Franchi dovesse colpirlo con un radical beam sicuramente gli effetti non sarebbero piacevoli per il cuoco questa almeno è come la vedo io quindi vittoria di Sanji penso al 100% però comunque con diverse difficoltà e più di qualche costo la rotta fatemi sapere voi come la pensate su questo scontro Sanji contro Franchi ovviamente e se magari vi piacerebbe che commentassi un altro scontro all'interno della ciurma dei Mugiwara un saluto da TNBT General Franchi Odi Jones Libreria One Piece Massimi Esperti un saluto ci vediamo con i prossimi video